Andrea, da quanti anni producete il vino Novello? Dal 97, non l'abbiamo mai smesso. Com'è andata quest'anno la produzione? No, no, è stata una bella annata, un po' complessa a livello di gestione a causa delle piogge, una delle annate più umide, quindi un po' di pressione a livello di malattie di pronospera, però per fortuna un po' la zona, un po' i trattamenti indovinati, si è portata a casa della bella uva e quindi devo dire una bella, bella annata. Qual è la differenza tra il vino Novello e il vino nuovo? È una sostanziale differenza, è una tecnica, il vino Novello si basa su una tecnica che viene detta la macerazione carbonica, senza entrare troppo nel dettaglio, viene fermentato e lavorato in un ambiente senza ossigeno, la fermentazione avviene all'interno dei chicchi e quindi è un vino che tende ad avere degli aromi e dei profumi molto fruttati, molto freschi, mora, lampone, fragola, non è molto tannico in quanto non ha una vera e propria macerazione tradizionale, quindi lunga sulle bucce, ha colori piacevoli, violaci, ma chiaramente non molto intensi, ma se volete nella sua freschezza, tant'è che insomma è un vino che viene imbottigliato a 7-10 giorni, 15 giorni dalla fermentazione, quindi è veramente quasi un mosto ancora che sta finendo, ma proprio secondo me in quella piacevolezza, in quella fruttuosità, proprio nel ricordo quasi dell'uvo, dei profumi della vendemmia, quindi di questo mosto che fermenta il suo cavallo di battaglia, le sue qualità più importanti. Qual è il vostro cavallo di battaglia? A Novello ne facciamo uno, si chiama il capriccio d'autunno, che è tutto un merlot, vinificato con macerazione carbonica e ormai dico ecco dal 97 che lo facciamo, quindi sono veramente parecchio i vecchi anni, non abbiamo mai smesso, sempre quel quantitativo di bottiglie, sempre da quello stesso vigneto, quindi un po' ormai è diventata una piccola tradizione nostra come rosso giovane. Rosso strutturato è sicuramente il sogno, che è un merlot cesanese affinata in legno, completamente diverso, quindi 14 gradi e mezzo, pieno, ricco, tannini molto maturi, piacevoli, anche da lungo invecchiamento, quindi un rosso importante. Come bianchi sicuramente il Moscato di Terracina, l'Hopidum, nella veste secca, aromatico, profumato, molto affascinante come vino. Il Passito, quindi da Dessert, queste note profumiche che ci ricordano un po' anche come tradizionalmente la Sicilia da dove veniamo, quindi queste note di dattero, di miele, acacia, insomma, queste scorsa d'arancia candita, cetro, no, molto molto, sono i prodotti un po' più tipici di questa zona che è divisa fra il Circeo e Terracina, il Moscato di Terracina. All'anno quante bottiglie di vino novello producete? All'anno sono sempre 10.000 bottiglie, da sempre, bene o male, quello è il vigneto, poi ogni annata magari qualche bottiglia in più se la producio, qualche bottiglia in meno in base alla produzione, ma è sempre, è stata sempre la stessa, nonostante i su e giù delle mode del novello, salire e scendere così, noi è una produzione che abbiamo sempre fatto. L'annata migliore in questi ultimi anni? Di novello in generale, o di novello non è che facciamo una vera e propria verticale di novello, è abbastanza anomala, sicuramente quest'anno che è stato un po' più fresco rispetto all'anno scorso, è sicuramente un novello un po' più fruttato, c'è un po' queste belle note di fragole e lampone dominanti, piacevoli, l'anno scorso un pelo più maturo, con la massima sincerità l'annata migliore di novello non lo so perché magari nessuno neanche la conserva, però il bello del novello secondo me è che è un modo per bere un vino subito, fresco, che non vuole troppe pretese, non vuole troppe discussioni intorno al bicchiere, ma semplicemente per il piacere di bere, poi insomma ecco, antipasti di montagna o con le castagne che da quest'anno riusciamo ad avere di nuovo le castagne della nostra regione, dopo anni e anni insomma di carenze per problemi vari e quindi è veramente piacente. Per quali problemi? C'è stato un, non so esattamente come si chiama, un intacco di un insetto che veniva dall'estero che ha devastato decimato i castagneti, da diversi anni la regione ha adottato una lotta antagonista, quindi abbiamo apparentemente fatti i lanci di insetti antagonisti di quest'altro e stanno dando i primi frutti e quindi si riescono ad avere finalmente le castagne di Rieti, Bitermo, insomma di queste zone qua. Allora non ci resta che dire Welcome Novello. Welcome Novello e Castagno e Novello allora. Grazie Andrea. Niente.